Attenzione volante 15 Piedri 3, Pietro 5, la gioielleria, il proprietario ci ha chiamato al 113 Ma non sappiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire Pietro 5, io voglio una traversa di via di torre spaccata Gelli, ehi gioielleria Porta Maggiore, ma vicino a B Va bene Porta Maggiore, a 1 San Basilio A Dona Domenichella, Civico 148, davanti a un negozio Ci stanno segnalando delle persone a bordo di una Fiat tipo di colore Bordeaux Con due antenne in particolare, che guardano nei negozi